La percezione che abbiamo dell'Africa è completamente viziata da una scarsa informazione. In realtà l'Africa sarà un continente sempre più importante e per le dinamiche italiane, ce ne stiamo rendendo conto in questi ultimi anni con le migrazioni, ma sarà sempre di più, e per le dinamiche planetarie. Bisogna rendersi conto che entro il 2050 un abitante su quattro del pianeta sarà africano. Dopo il 2050 l'Africa sarà l'unica regione del pianeta a conoscere una crescita demografica sostanziale. Entro la fine del secolo il 40% della popolazione planetaria, quindi quasi uno su due, sarà africano. Questo sta comportando una serie di stravolgimenti. La popolazione urbana africana sta crescendo, la classe media africana sta crescendo, stanno cambiando. È chiaro che l'Africa è un continente, non avviene tutto alla stessa velocità in tutti i paesi, sono 54 i paesi africani. Ce ne sono una quindicina che stanno galoppando. Nigeria su tutte? La Nigeria è la prima economia del paese, è anche una delle più complesse. Da sola conta 180-190 milioni di abitanti. Nessuno sa quanti sono, perché l'ultimo censimento risalga agli anni 60. Sono tanti e continueranno a essere tanti, ma così vale per l'Etiopia che ne conta 90. c'è la Nigeria, c'è il Sudafrica, c'è il Ghana, c'è la Tanzania, l'Etiopia, il Kenya, la Costa d'Avorio, il Senegal. Ci sono una quindicina di paesi che noi chiamiamo le avanguardie, che stanno crescendo. L'Africa è la seconda regione del pianeta dopo l'Asia per crescita economica. Chiaro, avviene a velocità diverse. L'Italia sta finalmente avendo una nuova attenzione verso l'Africa, se ne è accorta. Da due anni è iniziata una politica di riavvicinamento. L'anno scorso, quindi sono un dato uscito proprio ieri, l'Italia nel 2015 è stato il primo investitore in Africa. Questo che cosa vuol dire? Che l'Abruzzo ha nell'istituto effettivamente una testa di ponte su un continente sconosciuto, diciamoci le cose chiaramente, in Italia, ha una testa di ponte preziosissima perché lì da tanti anni che gode di una grande fiducia che gli africani oggi pagano loro, di tasca loro, per fare una serie di servizi. Che può essere una testa di ponte veramente preziosa per cooperazioni culturali, politiche, economiche perché nuovi mercati sono lì, le grandi aziende di tutto il mondo vanno lì perché in difficoltà in altri posti e forse anche qualche azienda brutta. Lei ha pensato prima di altri però di andare lì, non le chiedo come e con quale intuizione, però indubbiamente la scelta è stata felice, no? La scelta sì, si sta dimostrando felice. Noi l'Africa la bazzichiamo da tanti anni, l'abbiamo vista cambiare, ce la siamo vista cambiare sotto i piedi andandoci e quindi abbiamo capito che in Italia mancava un racconto di questo cambiamento e abbiamo capito che questo cambiamento sarebbe arrivato in un modo e in un altro sarebbe arrivato anche in Italia e quindi abbiamo deciso di cominciare a raccontarlo per tempo.